Ben ragazzi e consigliati da chi si torna in questo nuovissimo video, oggi ragazzi siamo tornati su Call of Duty e siamo in comunità di Cicero, attenzione, bella Allora oggi l'ho invitato per fare un uno contro uno, dato che dobbiamo farlo da un mese ormai, da quando ho allenato Cioè veramente è da un sacco che gli facciamo questi uno contro uno Sì, ha sempre perso quasi Non è vero Sì E oggi siamo qui per fare l'uno contro uno ufficiale, che poi a me è ufficiale perché faremo la rivigita in un futuro molto prossimo Ma dimostri soltanto che sei uno scioppone così Eh, infatti lo sono Boh, via uno Fai, fatti vedere No, non mi è partito il colpo Adesso Cristo Un lista col dual bed Perché? Perché devo prendere il tuo DSR No, 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 non mi uccidere Nooo Ma perché? Lo so che il mio DSR è fortissimo però Dov'è il DSR di Cicero? Dov'è il DSR di Cicero? Oh, 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 oh Ma non ci sta Non c'è per terra What? Hai sciac... Non è che forse se non hai sciacallo non potrei... Ma no, che qui? Che t'ho fatto? Ok, sì, ho il DSR di Cicero Boom, via uno Risto Ma tanto perché tu non ce l'hai d'oro Che... Waffanculo Boom, mera, guarda Ah, che bello il DSR di Cicero Da soddisfazione No, porco No, pippa Non abbiamo detto la cosa principale di questo 1v1 E quando si arriva a 29 No, ma il cazzo Non si fa... Succede qualcosa di fantastico Non i trick, vecchio Ah, il doppio triangolo Ebbè, ovvio Però quello te lo faccio con il ballista e non mi rompi le palle No, lo devi saper fare con il DSR Ah, bene Tipo così, tipo L'hai fatto? Sei serio? Sì Che figlio di una mignotta Guarda come te ne va mirato Vabbè, ovvio Che schifo No Vado Che cazzo? Chi è Andrea Poguado? È un mio amico Non ci voglio dire Ma caggielo via, ma vaffanculo Sto ingredendo Oddio Andrea, ti sto per ammazzare di boccia Dov'è? Come si manda? Levati La richiesta aggiunta amico Come cambio la richiesta aggiunta amico? In vaffanculo stronzo Levati No, gli decidi Dai Eh, ho capito Aspetta un attimo Levati Aspetta, iniziamo un'altra partita Ti rifacciamo da capo tutto Ragazzi, ci siamo Con un cicero laggante Ci siamo Abbiamo avuto due interruzioni Non una Soar Mirko Proprio lui Che fail Qualcun è passato attraverso Non è un'altra partita Non è un'altra partita Ma vabbè No, vabbè Raga, non so che fare Non gli entra i colpi Cicero, se arrivi a 29 Io si uccido e basta No, no, anche io lo so Che triaglio Tanto Ma tanto tu col culo che c'hai Anche se like Mi prenderai subito Ma non è vero Ma sì che è vero Guardalo, guarda Cicero, se mi prendi Ti mi incazzo, eh Ok Cicero Cicero Stai rischiando la vita Questa partita l'avrei vinta Occhi chiusi Oh sì Godo Godo cosa? Che per colpa di sta cagata Ho perso Io l'ho fatto Che cosa cagata intanto Vabbè, vabbè Hai vinto solo per questo Se me l'avessi fatta fare Col ballista magari Eh, poi con il ballista Ci vedrà Col ballista Eh, vabbè Allora questa l'ha vinta Cicero Perché era col PSR Va bene Allora Ho spinto Ragazzi Cosa vuoi dire? Voglio sapere Quando uscirà questo video Soltanto per scrivere sotto Nei commenti Quanto sono forte Non riuscirà Probabilmente Ah, sei un stronzo Comunque Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordi di lasciare un video Di iscrivervi al canale Se ancora non l'avete fatto Ci vediamo al prossimo video Bella Grazie a tutti